Luca Marconi, buongiorno. Buongiorno Silvia. L'ultima volta che ti ho visto eri sul grande palco di Notre Dame de Paris. Sì, è vero. Sono passati un po' di anni. Diciamo che ci sono anche in questo momento, non in maniera assidua come 5 anni fa, ma la grande macchina, la grande famiglia di Notre Dame de Paris fa ancora parte della mia vita in questo momento. E ti ha portato bene comunque. Sì, sì, assolutamente. Perché dall'anno scorso sei entrato in questo nuovo progetto che mi incuriosisce. Mimi è una civetta. Assolutamente. Naturalmente pensiamo a Giacomo Puccini, ma anche a RENT. Quindi che cos'è questa nuova operazione? Allora, guarda, devo essere sincero, l'anno scorso quando ho visto il bando di audizione non avevo capito bene nemmeno io di cosa si trattasse. Poi, al momento dell'audizione, ho conosciuto appunto, c'è stato questo momento un po' magico, sai, perché comunque con Notre Dame siamo abituati a lavorare in teatro, per virgolette, comunque palazzetti che riescono a raccogliere moltissime persone. Quindi, magari spesso e volentieri si tratta appunto di palazzetti oppure di altri tenda. Invece, questa audizione è stata svolta proprio alla Lieri di Ravenna, che è una bomboniera incredibile come teatro. E quindi già lì si respirava un'atmosfera magica, molto molto diversa da quella a cui sono... Abituato. Poi ho fatto questa posizione in presenza appunto del regista Greg Ganacas e della moglie di Riccardo Muti e non sapevo che in falla c'era anche il maestro Riccardo Muti che ha assistito alla mia audizione, il quale mi ha fatto moltissimi complimenti a fine audizione lasciandomi quasi, diciamo, esterrefatto perché le sue parole sono state... ce ne fossero di cantanti d'opera che interpretano come interpreta questo ragazzo. Quindi per me è stata un'emozione pazzesca. Non è lì? Chiaramente è iniziata tutta la trafica, deve aspettare la conferma o meno finché è arrivata la chiamata da parte del Ravenna Festival ed è iniziata questa avventura di Mignola Civetta che è stata vissuta l'anno scorso, tra novembre e dicembre 2015, in un mese intensissimo di prove e di recite appunto lì al teatro di Maniglieri di Ravenna. Non è né Rent né Puccini né Bohème nella sua accezione più classica. Diciamo che musicalmente la musica appunto è quella di Puccini. Il riarrangiamento però che è stato fatto da Alessandro Cosentino è un arrangiamento moderno, è un arrangiamento che può sposare il pop, il jazz, il rock per certi versi. Le parole sono appunto quelle originali del libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica però non è Rent perché Rent appunto è un musical originale scritto e ispirato alla storia di Bohème. Invece noi viviamo appunto la storia di Bohème vera e propria però con appunto le liriche, con i brani di Bohème come fosse l'opera lirica però è rivistata in una nottea moderna cantata con voci moderne, naturali, non impostate le liriche. Certo, quindi non è attualizzato come rente? No, 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 è diciamo ambientato nella Parigi nei primi anni 20, tra il 20 e il 30 come ambientazione. Quindi anche lì c'è stata una possibilità di lavorare in maniera molto bella con le proiezioni, con le luci, con i costumi, abbiamo avuto dei costumi pazzeschi, bellissimi, proprio di sartoria, meravigliosi che ce l'ha permesso insomma di tuffarci un'atmosfera completamente nuova. Quindi, Lito Marconi comunque non è nuovo a queste contaminazioni tra opera e pop, so che hai già fatto altre cose. Beh, io diciamo che ho avuto un trascorso di studio, seppur breve comunque, in cui mi sono avvicinato alla lirica nel contemperatorio. Poi non è stata proprio un'esperienza del tutto piacevole per me perché ero molto giovane e avevo davanti a me il classico bivio da prendere, cosa vuoi fare, la lirica o la musica leggera. All'epoca ero molto più indirizzato sulla musica leggera e devo dire che costanto di poi non mi sono pentito. Nonostante ciò la passione per alcune atmosfere, per alcune opere, in particolare Cuccini, che mi piace veramente tanto, è rimasta. Quindi, quando c'è stata la possibilità di creare questo connubio appunto tra opera, però, diciamo, ambientata e comunque sviluppata nella maniera che è la mia personale, quindi in una maniera moderna, mi sono trovato proprio, diciamo, come la mano nel guanto, insomma, ecco, sono proprio felice di essere parte di questo progetto. Sei Rodolfo? Rodolfo. Ecco, meraviglia. Poeta Rodolfo, quindi da poeta, poeta scrittore, da poeta per Grenguara, poeta Rodolfo. Esatto, vedi che tutto torna. Tutto torna, esatto, esatto. Quindi com'è questo scapigliato Rodolfo? Come l'hai costruito? Guarda, la cosa stupenda è che quando abbiamo fatto le audizioni, quando ho conosciuto in maniera, diciamo, più profonda il revista Greg Aracas appunto, che ho scelto durante le audizioni, lui ha detto, Rodolfo, sei tu. E io ho detto, ah, ok. Perché quando io mi sono fatto fare l'audizione, io ho scelto non solo per chiaramente le qualità canora, storiali, ma per le qualità caratteriali che avete tirato fuori. Rodolfo è romantico, lunatico, estroverso, iracondo, c'è tutto dentro. Ma la cosa meravigliosa è che le arie che canta ti permettono di tirar fuori delle emozioni naturali che ognuno di noi ha in maniera totalmente spontanea e libera che viene del tutto naturale. Rodolfo vive questo amore folle per me che stravolge la vita, infatti, è come fosse... C'è una parte appunto dell'opera che viene recitata e dice... Non mi ricordo bene perché sono in fase di ripasso per la ripresa. In questa caso mi devo ricordare perché è la parte del secondo atto. Ah, dice... In mezzo alle tempeste delle loro liti, di comune accordo si soffermavano a riprendere l'ena nella fresca osi di una notte d'amore. Ma all'alba del domani, un'improvvisa battaglia, faceva fuggire spaventato l'amore. Così, se fu vita, vissero giorni felici, affermate molti pessimi nella continua attesa della separazione. Questo ti fa capire perfettamente quello che è l'amore tra Rodolfo e Nini, un tiro e molla, un prendi... è come l'onda che sbatte continuamente sul bagnasciuga, che arriva, poi si ritira, si ricarica e si rilancia di nuovo. Quindi è emotivamente, è veramente un'onda incredibile. Infatti c'è stata una... Durante le prove, l'anno scorso, c'è stata una delle esperienze più fatte della mia vita perché stavamo provando, appunto, eravamo quasi addirittura di arrivo prima del debutto e stavamo provando la scena finale in cui, appunto, chiaramente non c'è nulla perché Bohème, la storia di Bohème la sanno tutti, in cui Nini muore e Rodolfo è travotto da questa cosa. E beh, insomma, a fine scena sono scoppiato in un pianto di quelli proprio liberatori in cui ho tirato fuori le tensioni del mese di lavoro, tutta la compagnia ci siamo abbracciati. È stata un'esperienza veramente che ci ha unito tantissimo. Devo essere sincero, è un'esperienza che probabilmente se non avesse avuto la possibilità di vivere con i colleghi che ho trovato lì, forse sarebbe stata diversa perché la mia mimi, Mariangela Ruanno, Giulia Mattarella che interpreta Musetta, il mio fedele amico Marcello che è Adriano Di Bella, sono state delle persone che mi hanno... Davide Paciola, Schoenar, Paolo Gatti, Collini e gli altri ragazzi dell'Ansella. Insomma, c'è stata veramente una coesione di anime e di... Come posso dire? Sembra quasi... L'empatia. Non riesco a parlarne, però è stata veramente un'atmosfera così ferma nel tempo. Infatti la vicenda diceva sempre «This is a moment still in time» perché è veramente una cosa che è stata messa lì e rimarrà lì in maniera come indelebile. Quindi quello è il punto da cui io voglio ripartire adesso per riprendere in mano appunto questa Mimì che tra una settimana circa ridebutterà nuovamente al teatro di Ravenna, lì ieri con tre recite, inizieremo con un mattinetto, facciamo appunto la prima, la sera del 3 e abbiamo una pomeridiana il giorno 4. Tra l'altro so che poi comincerà un tour nei principali teatri dell'Emilia Romagna. Sì, siamo in Emilia Romagna e questa cosa mi rende molto molto felice perché appunto da un progetto che era partito così quasi per gioco perché non ci dimentichiamo che questo spettacolo nasce da un'idea della modi del maestro Riccardo Muti, di Cristina Mastavigliani Muti che voleva creare una, come lo chiama lei, un divertissimo modo alla bohème, praticamente un modo per interpretare la bohème in maniera quasi divertente, chiamiamo così, però alla fine è uscito secondo me un lavoro diverso da come lo immaginava ma emotivamente e visivamente molto molto forte perché appunto Greg Anacast, il regista, il regista, il regista, il regista, il regista, il regista, il regista coreografo americano ha creato un'atmosfera quasi brodoiana, chiamiamola così, ecco per smettermi termine perché siamo in scena con due carri girevoli, con delle proiezioni e delle quinte mobili, le classiche quinte del teatro diciamo l'italiana, quindi sono tre file di quinte mobili scorrevoli che ecco riescono a creare quanto meno dettagli all'interno del palco, ma con questi due carri appunto mobili di cui uno, noi lo chiamavamo il carro casa perché diciamo era quello che veniva utilizzato appunto per ricreare la soffitta dei quattro scapestrati rigini e l'altro carro era quello dove la band, perché questo spettacolo ha la cosa stupenda che è una band dal vivo ricordiamo con tre violinisti, bassista, pianista, chitarrista, batterista e appunto questi carri all'interno del durante lo spettacolo si muovono e intrecciandosi creano degli spazi per cui tu ti trovi appunto inizialmente nella soffitta, poi successivamente ti trovi in una strada che ti porta all'interno del caffè momiu ed è una, io quando ero sul palco dicevo vabbè si stanno muovendo dei carri, chi sa cosa sta facendo, il giorno che sono sceso in platea e ho guardato esternamente cosa questo registro è riuscito a creare con dei semplicissimi movimenti di inclinazione oppure comunque semplicemente girandoli di qualche grado appunto di angolazione si creavano degli spazi totalmente nuovi e dell'atmosfera incredibile non svegliamo tutto, non svegliamo tutto neanche della scenografia no, 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 infatti comunque una grossa operazione insomma come scusa? una grossa operazione beh, guarda penso che anche loro si sono trovati a dover solteggiare tra virgolette una cosa che non si aspettavano nel senso che l'anno scorso quando abbiamo debuttato appunto pian piano si sono resi conto di cosa stava prendendo vita con questo lavoro perché veramente noi tutti siamo stati entusiasti fino al primo giorno perché appunto il regista ci ha dato una carica meravigliosa, era positivo, sorridenti tutti i giorni, lavoravamo, smontavamo, rifacevamo quello che andava di fatto tutti i giorni ma eravamo sempre lì a lavorare con sorriso facevamo giornate di prove, tra l'altro finite le prove ci trovavamo tra di noi rifacevamo tavolino, recitazione ai vari punti, rifacevamo delle cose per trovare delle sfumature molto molto importanti, infatti la cosa bella è stata proprio questo mese proprio un mese lì che tutti i giorni eravamo insieme, lavoravamo e creavamo qualcosa quindi c'era un'intensità costante questi giorni e quando appunto sono venuti questi altri teatri interessati a vedere lo spettacolo sono rimasti molto molto colpiti addirittura io avevo molta paura perché sai in un teatro all'italiana che ho scritto sempre l'opera lirica proponi un'operazione che non è opera, è musical, è una cosa un po' probabilmente più vicino al musical che a qualsiasi altro tipo di genere però comunque si va a contrarre con i melomani che sono chiaramente dei puristi e devo dire che sono stati i primi a farci in piedi e battere le mani a farci tantissimi complimenti a fine serata addirittura qualcuno si è anche sbilanciato nel dire che ha apprezzato più la nostra versione classica insomma che magari dopo tutti questi secoli sai è sempre bohème non mi permettere mai di dire che insomma andrebbe cambiata però sicuramente una rivisitazione moderna che è più attuale anche musicalmente rispetto a quelli che possono essere i gusti dei giovani d'oggi delle persone di oggi che ascoltano musica sicuramente ha una pille differente e probabilmente potrebbe essere un'occasione giusta per far avvicinare appunto i giovani, chiaro le persone che non conoscono l'opera all'opera tramite diciamo ecco questa operazione per poi scoprire magari l'originale quindi la versione classica, orchestrale con tutto il canto lirico e ciò che ne comporta bene, ricordiamo allora il primo appuntamento che sarà appunto lunedì 3 ottobre alle 20.30 al Teatro Alighieri di Ravenna per la trilogia d'autunno proprio il festival dedicato a Giacomo Puccini e poi successivamente nuove date sperando anche di vederlo altrove fuori dalle miglia romagna e perché no, magari anche a Milano magari Silvia, vabbè io mi sto battendo con i denti sto cercando di portare persone a conoscenza di questo progetto perché sono sicuro che se la gente vedesse cosa di cosa stiamo parlando si interesserebbe molto e vorrebbe vederlo e quindi io ti ringrazio anche dello spazio del tempo che mi stai dedicando per diciamo aiutarmi a spargere la voce di Mimì e farla arrivare le più persone possibili perché appunto quest'anno saremo solamente in Emilia Romagna tra cui Serranara, Piacenza la cosa che mi rende molto orgoglioso è che saremo al Teatro Pavarotti di Modena quindi ci sarà una atmosfera particolare perché Pavarotti chiaramente Pavarotti è bohème diciamo era uno dei suoi cavalli di battaglia quindi sarà quasi un franone per me poterla cantare nel Teatro di Modena in testa blu saremo a Giglio, a Lucca saremo a Reggio di Palma che sarà per me un déjà vu un ritorno al passato con Notre Dame che è stato il mio primo debutto con Notre Dame e ci tornerò con Mimì quindi sarà sicuramente una emozione molto molto grande rivivere quelle stesse mura in vestiti differenti bene io ti ringrazio e auguro tutto il meglio per questa nuova produzione io sono sempre contenta di supportare cose nuove che arrivano, si affacciano sui palcoscenici italiani poi questi progetti particolari poi ancora di più quindi grazie Luca Marconi per questa tua partecipazione e tanta BIP per questo rientro sulle scene grazie, grazie, grazie mi aspettiamo al Teatro 3 ottobre alle 20.30 al Teatro Liglieri di Ravenna e poi grazie Silvia saprete che conoscete anche le prossime tappe tra novembre, dicembre e febbraio mi aspettiamo al Teatro grazie mille di cuore venite a prendermi una ciletta grazie Silvia un bacione buona giornata ciao